Siamo nella zona sicura. Faccio il passeggero. Saltate su, vado io. Io mi siede davanti. Vado di qua. In movimento. Serve a qualcuno? In movimento. Voglio andare qui. Che ci sono Grazie a tutti. 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 In movimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Versaglio localizzato. Grazie a tutti. Vedo movimento. Vedo movimento. Avete... Grazie a tutti. Vado... In questa parte. da... No... Ne resta... No... 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 Sei tra... Do... 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 No... 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 Grazie a tutti